Bene, buonasera, grazie ancora per essere intervenuti numerosi a questa quinta e penultima conferenza sul tema del tempo. Il titolo di questa conferenza è Tempo e distanze cosmiche. Grazie. Ecco, quando noi osserviamo un tranquillo paesaggio, magari stiamo ascoltando della musica con il nostro MP3, abbiamo normalmente la sensazione di vivere in diretta le immagini e i suoni che ci arrivano dal mondo circostante. Siamo così talmente intrisi di presente che non ci viene altro da pensare che attraverso i nostri sensi noi stiamo vivendo il presente in ogni sua manifestazione. Pertanto che noi siamo qui a galleggiare sul lago Michigan e a rimirare i grattacieli di Chicago, oppure ancora che siamo, diciamo, sui colli monegaschi a rimirarci Monte Carlo all'imbrunire, oppure ancora che siamo sul ciglio della strada a guardarci le colline toscane, tutto questo noi lo percepiamo come un qualcosa che è un evento che è osservato in diretta. Per incrinare un po' questa nostra percezione, nell'immediatezza delle nostre percezioni, è sufficiente trovarci sotto a un imponente temporale, come in questo caso. Come sappiamo, si verifica un lampo e susseguentemente arriva un tuono e arriva in tempi diversi. Ecco, dobbiamo quindi tener conto, per esempio, nel caso del suono prodotto dal tuono, che il suono viaggia a una velocità di 343 metri al secondo, almeno nell'aria calma e a 20 gradi di temperatura. Stessa cosa vale per la luce che ci arriva, diciamo, le immagini che noi vediamo non sono altro che luce. E la luce, come sappiamo, viaggia prossima ai 300.000 km al secondo. Esattamente 299.792.458 metri al secondo. Ecco, rinverdiamo una semplicissima formula, è l'unica di tutta la trattazione, non ci spaventiamo per questo. La velocità è uguale allo spazio diviso il tempo. Ecco, da questa formula noi possiamo, diciamo, utilizzarla per calcolare il ritardo con il quale il suono arriva a noi. Quindi, da velocità uguale a spazio diviso tempo, abbiamo che il tempo, questo ritardo, non è altro che lo spazio percorso dal suono diviso la velocità del suono. La stessa cosa, tra virgolette, possiamo applicarla anche alla luce. Per la verità, per fare calcoli sulla luce dovremmo usare delle formule relativistiche. Però, diciamo, considerando che parliamo di soggetti sostanzialmente fermi fra di loro, cioè l'oggetto osservato e l'osservatore, possiamo, a grandi linee, dire che la velocità della luce, che come sappiamo si indica con C, è uguale allo spazio percorso dalla luce nell'unità di tempo, da cui ricaviamo che il ritardo col quale la luce arriva ai nostri occhi è uguale allo spazio percorso diviso la velocità della luce. Vediamo qualche esempio pratico. Immaginiamo di essere davanti a questi bei suonatori, speriamo anche bravi, essere proprio lì davanti, a tre metri di distanza. Ecco, applicando le formule che abbiamo visto, vediamo che il ritardo con il quale il suono arriva a noi, basta applicare la formula. Questo ritardo è uguale a 3 metri diviso 343 metri al secondo. Ne esce un numero che è pari a 8,7 millesimi di secondo. La stessa cosa la possiamo fare con la luce. Noi guardiamo queste persone per effetto della luce del sole che va a riflettersi sui loro volti, sui loro strumenti. E applicando la stessa formula abbiamo i 3 metri diviso 299 metri, e con i 3 milioni erotti abbiamo un ritardo che è prossimo a zero, ma non è zero, è un piccolo ritardo. Praticamente è un centomilionesimo di secondo. Quindi noi guardiamo a solo 3 metri questo bel gruppo e abbiamo queste percezioni differenti. Siamo d'accordo, sono differenze minime, però poi andando avanti con il discorso vedremo. Ecco, supponiamo adesso di essere, cambiamo scena, vediamo un concerto, supponiamo a 30 metri dagli orchestrali. Applichiamo le stesse formule e vediamo che il ritardo con il quale il suono arriva a noi è questa volta 8,7 centesimi di secondo. L'immagine che ci arriva di questi orchestrali è un decimilionesimo di secondo, valore sempre molto piccolo, ma non nullo. Ecco, riassunti i valori che abbiamo detto. Cambiamo scena, siamo in mezzo alla campagna, di notte, in assoluto silenzio, e siamo fortunati quella sera una meteora decide di incanalarsi nella nostra atmosfera e come spesso succede, questi fenomeni si chiamano anche bolidi, come spesso succede, si spezza a una certa altezza, diciamo sui 40-50 chilometri di altitudine. E normalmente spezzandosi produce anche un boato che è possibile, diciamo, ascoltare se siamo appunto in silenzio. Ecco, in questo caso, come vediamo, il suono di questo boato ci arriva dopo due o tre minuti. La visione ci arriva, comincia ad arrivarci a 1,3-1,7 decimillesimi di secondo. Vediamo che il ritardo sta aumentando, man mano che aumenta la distanza. Bene, abbandoniamo i calcoli sul suono che sappiamo il suono è relativo alla nostra Terra e non va oltre l'atmosfera. Però la luce, come sappiamo, si propaga nello spazio. Ecco, se noi, per esempio, guardiamo la Luna dalla Terra, già quella luce riflessa dalla Luna ci arriva con 1,28 secondi di ritardo. Ecco, qui vediamo, in questa animazione, percepiamo un po' il ritardo con il quale la luce copre la distanza Terra-Luna. Questo fatto lo si è ben apprezzato quando i primi astronauti sono andati sulla Luna, quando il centro di controllo poneva una domanda agli astronauti passava qualche secondo prima di poter ricevere la risposta, non perché erano tardi a dare la risposta, ma perché bisogna aspettare che il segnale andasse in andata della domanda e poi arrivasse di ritorno alla risposta, impiegando sempre circa un secondo e mezzo. Ecco, adesso estendiamo i nostri calcoli, usando sempre le formule di prima, andando nel Sistema Solare, quindi aumentando le distanze. Ecco, in questa tabella sono riportati i corpi maggiori del Sistema Solare e è indicata la loro distanza dal Sole. Vediamo in blu gli otto pianeti canonici che sappiamo l'Unione Astronomica Internazionale ha decretato essere i veri pianeti del Sistema Solare. Quelli in giallo, in arancione, sono pianeti nani, quindi vediamo Cerere, per esempio, che è il maggiore fra gli asteroidi che orbitano fra Marte e Giove, poi abbiamo Plutone che è stato declassato e i nuovi pianeti nani che sono stati scoperti, che hanno dei nomi un po' strani, Haumea, Makemake, Eris e ce ne sono altri. Ecco, le distanze dal Sole sono espresse in unità astronomiche. Ecco, vediamo che all'aumentare delle distanze gli astronomi hanno difficoltà a usare i chilometri per misurare le distanze, per cui usano l'unità astronomica che non è altro che la distanza Terra-Sole. Vediamo la Terra, esattamente una unità astronomica dal Sole, parliamo di circa 150 milioni di chilometri. Bene, io mi sono preso la briga di calcolare la distanza della Terra da questi corpi e vedere in quanto tempo la luce arriva a noi. La luce ovviamente è riflessa. Ecco, vediamo che il pianeta più vicino è Venere, che quando è nel punto dell'orbita più vicino a noi la sua luce impiega 2 minuti e 18 secondi. La massima sarebbe addirittura 14 minuti e 20 secondi. Ecco, scorrendo velocemente, vi indico solo la minima, vediamo che Marte sale a 4 minuti e 41 secondi. Poi abbiamo Mercurio, la cui luce riflessa arriva dopo 5 minuti e 6 secondi. La luce del Sole, che non è una luce riflessa ma è una luce propria, prodotta dal Sole, ci arriva dopo 8 minuti e 19 secondi. Quella di Cerere dopo 14 minuti e 41 secondi. Quella di Giove supera la mezz'ora, siamo a 35 minuti. La luce di Saturno impiega più di un'ora, un'ora e 11 minuti. Urano è a 2 ore e 31 minuti. Nettuno 4 ore e un minuto, 4 ore. Plutone, addirittura, questa debole luce riflessa, ci arriva dopo 5 ore e 19 minuti. Saliamo a 5.52 con Aumea. Makemake a 6 ore e 12 minuti. mentre Eris è a 9 ore e 14 minuti. Vediamo che all'aumentare delle distanze da noi aumenta il tempo e il ritardo con il quale la luce arriva a noi. Ecco, una curiosità. Nel 1977 sono state inviate nello spazio della NASA due sonde, la Voyager 1 e la Voyager 2, avevano il compito di studiare i sistemi e fotografare i sistemi di Giove e di Saturno. Ecco, adesso la Voyager 1 in questo momento è la sonda che sta andando verso l'esterno del nostro sistema solare ed è praticamente l'oggetto prodotto dall'uomo più lontano. È addirittura a una distanza di circa 115 unità astronomiche e la sua luce ci arriva dopo 16 ore. Quindi è oltre l'orbita di Eris. Ecco, se a questo punto vogliamo fare un balzo ancora più lontano, arriviamo, dopo quattro anni, arriviamo al primo gruppo stellare che incontriamo, è quello di Alfa Centauri. Sono praticamente tre stelle in rotazione attorno a un comune baricentro. Ecco, di queste stelle, diciamo, il gruppo di Alfa Centauri è qui, almeno la stella principale. Attualmente la stella più vicina a noi è Proxima Centauri, una piccola stellina di questo sistema. Ecco, come dicevo, la sua distanza è 4,2 anni luce, vuol dire che la sua luce impiega 4,2 anni. La vediamo come era 4,2 anni fa. Ecco, purtroppo è una stella che non si vede dal nostro emisfero, bisogna andare nell'altro emisfero, come ha fatto questo astrofilo. ci è andato nel 2003, ci è ritornato nel 2007, ha fotografato la stessa zona di cielo e lì vediamo il moto proprio di questa stella nel suo movimento di rotazione attorno alle stelle principali. Ovviamente è un movimento di rotazione molto lento. Ecco, in questa tabella, vabbè, si vede poco, comunque c'è poco anche da vedere. Praticamente sono elencate le 20 stelle più vicine a noi e vediamo qui nell'ultima casella in basso che queste stelle stanno dentro i 12 anni luce di distanza da noi. Quindi tanto per avere un'idea di com'è lo spazio prossimo oltre il sistema solare. Ecco, adesso farei una... Stoppiamo un attimino il nostro viaggio, facciamo una sosta. Mi piaceva dire due parole su quei mezzi tecnici che hanno consentito all'uomo di espandere le proprie distanze e conseguentemente sono un po' una sorta di macchine del tempo perché, come abbiamo visto, ci permettono di vedere lontano del tempo. Parliamo dei telescopi. Ecco, la storia del telescopio è iniziata, come sappiamo, da Galileo Galilei nel 1609 quando aveva costruito un piccolo cannocchiale copiando un'invenzione, diciamo, olandese e perfezionandolo un pochettino. Però la sua, diciamo, quello che ha fatto di grande è stato quello di applicarla allo studio del cielo. Quindi nella primavera del 1609 Galileo Galilei puntava il suo modesto strumento verso il sistema di Giove, verso la Luna, come sappiamo. Ecco, il telescopio di Galileo era molto semplice, era costituito da due lenti intubate, la lente anteriore era l'obiettivo, aveva il compito di raccogliere la luce, è una lente piano convessa, mentre questa lente biconcava ha la funzione di oculare. Quindi la prima aveva la funzione di focalizzare l'immagine in un certo punto, l'oculare aveva la funzione di ingrandire e di proiettare un fascio parallelo di luce nell'occhio dell'osservatore e quindi consentire l'osservazione. Purtroppo il telescopio di Galileo aveva due difetti fondamentali. Primo, che non si poteva andare oltre una trentina di ingrandimenti, quindi era proprio un sistema che non permetteva di ingrandire troppo. L'altro grave difetto era quello dell'aberrazione cromatica della luce. Come più tardi Newton poi ha scoperto, facendo passare un raggio del sole attraverso un prisma, la luce si scompone nei suoi colori. Ecco, purtroppo è quello che succedeva nel primo telescopio di Galileo. ecco, la luce penetrava attraverso l'obiettivo, l'obiettivo è di vetro, e il vetro praticamente allargava il fascio, deturpando l'immagine, quindi le immagini che si vedevano con questo strumento erano poco incise. Ecco, fu Newton, diciamo, a trovare una soluzione un po' più brillante, e fu quella di sostituire le lenti con degli specchi. Ecco, Newton intubò, dentro un tubo mise uno specchio principale, concavo, e uno specchio secondario, piano, posto a 45 gradi. Praticamente la luce degli oggetti entra da sinistra, colpisce lo specchio concavo, questa convessità va a portare l'immagine verso lo specchio secondario, che la rimanda fuori, e quindi tramite un piccolo oculare si poteva osservare ingranditi gli oggetti. Ecco, questa è stata un'invenzione anche per uscire un po' dal problema dell'aberrazione cromatica della luce. Ecco, qui vediamo uno dei primi strumenti diciamo, fatti con il sistema di Newton, e guardate, impressionante la somiglianza del telescopio spaziale Hubble con il primissimo modello di Newton, esteticamente, ovviamente. Ecco, veniamo al 1789, ecco, per dire, ho fatto quella introduzione per dire che sono nati due sistemi, quelli a lenti, detti anche rifrattori, e quelli a specchi, detti riflettori. Però il sistema riflettore era nettamente più interessante, perché si potevano costruire grandi specchi con una spesa contenuta, mentre per fare grandi lenti ci vogliono dei costi enormi. Ecco, questo è il telescopio che venne inaugurato il 28 agosto del 1789, fu costruito da William Herschel, un famoso astronomo britannico di origine prussiana, è uno strumento da 126 centimetri di diametro, e a quell'epoca era praticamente il più grande del mondo. Fu proprio quella sera che, come si dice, quando si inaugura un telescopio è la prima luce, no? Fu proprio quella sera che Herschel scoprì la sesta luna di Saturno, Encelado. Venti giorni più tardi scoprì la settima luna di Saturno, Mimas. Questo riprova che il maggior diametro di questi strumenti permetteva di ampliare enormemente le capacità visuali. Ecco, quello di Herschel rimase per 50 anni più grande al mondo, poi si arrivò al 1845 quando un eclettico astronomo irlandese, il conte Lord Rosse, costruì questo bestione da un metro e ottanta centimetri di diametro. Ecco, lasciamo perdere tutta la storia, non la voglio fare, per arrivare ai giorni nostri, o meglio, a metà del 1900, venne inaugurato il famoso osservatorio di Monte Palomar, che è stato per molti anni l'osservatorio più importante sul pianeta. Ospita questo grande telescopio, è il telescopio O'Hale, da 5 metri di diametro, quindi dai tempi di Herschel i diametri sono andati continuamente aumentando. E questo, diciamo, ha permesso di confermare anche la visione dell'universo in espansione, come aveva previsto Edwin Hubble nella prima metà del 1900. Ecco, il telescopio di Monte Palomar rimase più grande del mondo fino al 76, quando i russi decisero, un po' per ripicca forse, di costruirne uno un po' più grande, lo misero sulle montagne del Caucaso, purtroppo quello strumento non era stato costruito con la cura necessaria, per cui, pur avendo un diametro di 6 metri, la qualità ottica non era forse neanche paragonabile a quella di Monte Palomar. Veniamo invece al 1990, lì c'è stato un grande cambio tecnologico nella storia dei telescopi, è stato posto in orbita il telescopio spaziale Hubble, ci orbita ancora oggi sulla nostra testa a 600 km di distanza e questo effettivamente ha permesso di ampliare in maniera notevole le nostre le nostre conoscenze e di poter riprendere lo spazio esterno in maniera molto migliore, diciamo, migliore rispetto ai telescopi terrestri. Questo perché, orbitando fuori dell'atmosfera, non subisce il disturbo dell'atmosfera. È uno strumento di solo, fra virgolette, 2 metri e 40 centimetri di diametro, però, posizionato così fuori dell'atmosfera, ci ha regalato delle emozioni incredibili. Poi sono stati messi in orbita anche altri strumenti che operano o nell'infrarosso o nelle onde X, raggi X e raggi gamma. Ecco, concludo con una carrellata di tre siti astronomici importanti sulla Terra, i più importanti. Uno è il Gran Telescopio Canarias, alle Canarie, nell'isola di La Palma, è dentro a questa struttura, è un telescopio che ha un diametro, uno specchio con un diametro di 10 metri e 40 centimetri, è considerato lo strumento singolo più grande del mondo, perché non esistono specchi più grandi di questo. In realtà non è uno specchio unico, è un, come si dice, un multimirror, cioè è formato come un alveare, cioè ci sono tanti esagoni che vanno a comporre uno specchio più grande da 10 metri e 40. Ecco, qui siamo a una quota di 2.260 metri sul livello del mare. Ecco, un altro e secondo, diciamo, più importante è il sito di Mauna Kea, la maggiore isola dell'Away, dell'isola di ottici, sono i gemelli chiamati Keck 1 e Keck 2, sono due telescopi che hanno ciascuno un diametro di 10 metri e che possono essere utilizzati con il sistema cosiddetto interferometrico in coppia, praticamente, se puntano lo stesso strumento possono, diciamo, con un sofisticato sistema dell'interferometria lavorare proprio accoppiati e quindi aumentare la risoluzione. È come se ci fosse uno specchio di dimensioni maggiori. Ecco, sempre qui al Mauna Kea c'è anche uno strumento giapponese si chiama Subaru e ha 8,2 metri di diametro. Veniamo a quello che è considerato oggi il sito astronomico più importante europeo, è gestito dall'ESO che è praticamente l'organizzazione europea diciamo che opera nell'emisfero sud e qui ci sono quattro telescopi gemelli. Prima ne abbiamo visti due e qui ce ne sono addirittura quattro costruiti in parte addirittura con tecnologia italiana. Ecco, sono quattro strumenti da 8,2 metri di diametro ciascuno che possono lavorare in interferometria eguagliando praticamente uno specchio da 16 metri di diametro. Ecco, un'altra bella immagine sempre di questi quattro strumenti. niente, chiudo la parentesi sui telescopi mi sembrava utile insomma vedere un po' anche questi mezzi tecnici che ci hanno permesso tanto di scoprire tanto. Torniamo al nostro viaggio eravamo rimasti alle 20 stelle più vicine a noi nel raggio di 12 anni luce. Qui facciamo un balzo andiamo a 440 anni luce di distanza vediamo il bel ammasso stellare delle Pleiadi è un ammasso aperto di stelle sono stelle piuttosto giovani praticamente hanno solo 100 milioni di anni che su scala astronomica è un valore piuttosto basso le vediamo lì sulla sinistra ancora immerse nella loro bozzolo originario quindi nella materia che le ha create. Questa fotografia è stata ripresa dal nostro Gerardo Sbarufatti su in Val d'Aosta allo Star Party che ogni anno c'è a settembre a San Barthelemy e ha vinto il secondo premio diciamo di quella edizione. Ecco veniamo a un'altra fotografia siamo a 650 anni luce la fotografia è stata ripresa dal nostro Stefano Di Lauro si tratta della nebulosa Elix è praticamente il prototipo delle nebulose cosiddette planetarie il nome di planetario gliel'avevano data gli astronomi del passato quando con i loro deboli strumenti vedevano queste cose dicevano hanno si assomigliano a un pianeta però non ha nulla a che vedere con i pianeti ecco questa diciamo questo questa immagine rappresenta un po' quello che succederà al nostro sole fra 5 miliardi di anni quando diciamo il combustibile nucleare che alimenta la nostra stella si andrà ad esaurire come sappiamo adesso è alimentato dall'idrogeno poi passerà diciamo a bruciare elio ma a un certo punto non ci sarà più combustibile sufficiente per mantenere in vita in diciamo mantenere la forma del sole diciamo dopo una prima fase di espansione in una gigante rossa questa stella si contrarà in un nucleo molto denso che verrà chiamato poi viene chiamato nana bianca è quello che è successo a questa stella diverso tempo fa ecco la stella diciamo morente è questa al centro ecco questa è la nana bianca che oggi risplende con una temperatura attorno ai 100 mila gradi ecco il mantello diciamo prima di collassare si è liberata del suo mantello esterno e sono quelle parti che vediamo ad anello ecco qui qui siamo nella costellazione dell'acquario ecco una una considerazione la luce della terra che anche la terra emette luce no? e va nello spazio questa luce arriva verso questo oggetto dopo 650 anni vuol dire che se là qualcuno qualche civiltà supponiamo ci fosse ancora qualche civiltà ancora in vita una super civiltà che possa avere dei mezzi per poterci osservare ci vedrebbe come eravamo 650 anni fa quindi più o meno all'epoca di Giotto quindi qui vediamo il bel il bel dipinto che c'è nella cappella degli Scrovegni a Padova e viene chiamata l'adorazione dei magi potrebbero se avessero gli strumenti osservare questo bel dipinto nato da da pochi anni ecco noi siamo noi estrofili siamo particolarmente affezionati questo dipinto perché è la prima rappresentazione un po' realistica di una cometa questa in alto probabilmente Giotto era stato influenzato dal passaggio della cometa di Alley che era avvenuto qualche anno prima passiamo a quest'altro bell'oggetto è sempre Gerardo Sbaruffatti quel signore che ha vinto il secondo premio che questa volta ha ripreso dalla pianura da Caselle Landi quindi ciò nonostante diciamo con i mezzi che oggi anche gli astrofili possiedono quindi tecnologia digitale è stato possibile riprendere questo bell'oggetto si tratta della nebulosa denominata California perché la sua forma ricorda un po' i confini dello stato americano ecco facciamo un balzo in avanti siamo a 1350 anni luce di distanza incontriamo la nebulosa la grande nebulosa di Orione ecco questa questo bell'oggetto è possibile vederlo anche con un piccolo binoccolo se diciamo puntiamo il binoccolo nella direzione della costellazione di Orione è precisamente dove cade la spada di Orione al centro della spada c'è questo bellissimo oggetto che è possibile vedere anche con diciamo strumenti modesti ecco rappresenta una tipica regione H2 come si dice in gergo cioè una regione comunque che produce nuove stelle qui c'è un serbatoio di materia tale da poter formare fino a 10.000 stelle qui alcune stelle si sono già formate e quindi vanno la loro luce va a ionizzare l'idrogeno circostante in questo processo di ionizzazione vengono emessi dei fotoni in luce rossa ecco perché noi vediamo la nebulosa con queste colorazioni rosse ecco la foto è stata realizzata dal nostro osservatorio di Lazzarello di Pecorara da Nicola che è in platea ecco se qualcuno qui vale ecco se qualcuno da là potesse già guardarci ci vedrebbe come eravamo ai tempi dell'imperatore costante secondo quindi questo sempre per ricordare che purtroppo questo gap di spazio ci produce anche un gap di tempo saliamo a 1500 anni luce di distanza siamo in questo bello oggetto bello per noi estrofili è una nebulosa oscura che si vede perché c'è un fondale retrostante la nebulosa come abbiamo detto a 1500 anni luce il fondale a 1600 anni luce di distanza ecco per cui ci rende visibile questa nebulosa oscura che altrimenti non sarebbe diciamo visibile ecco saliamo a 2000 anni luce di distanza incontriamo in mezzo alla costellazione del Cigno in piena via Lattea vedete quante stelle ci sono foto sempre di Gerardo Sbarufatti vediamo queste tenuitrame una due e tre questo rappresentano un altro evento cataclismico che è avvenuto circa 10.000 anni fa ad una stella che probabilmente è qua in mezzo quindi al centro di questa specie di anello ecco questa stella era più massiccia del sole quindi non ha fatto la fine che farà il nostro sole che abbiamo visto prima con la nebulosa elix ma farà una fine più traumatica praticamente esploderà in una stella supernova lasciando come residuo una stella di neutroni che è un corpo estremamente compatto di dimensioni minime pensate tutta questa massa diciamo di una stella più grande del sole che viene compressa in soli 15 km di diametro un centimetro cubo di questa materia degenerata peserebbe qualcosa come 100 milioni di tonnellate questo per darvi l'idea di di che corpi possono essere questi ecco giusto per curiosità in questo campo stellare il diametro della luna piena ci starebbe 4 volte quindi si tratta di una zona di cielo abbastanza vasta bella anche questa nebulosità siamo a una distanza di 2450 km l'autore è sempre Stefano Di Lauro praticamente si vede un ammasso di stelle che ha una vaga forma a triangolo e per questa ragione gli è stato dato il nome di albero di Natale anche perché si vedono un po' qualche pallina diciamo natalizia ecco contrapposto al vertice di questo albero di Natale c'è una nebulosa oscura chiamata nebulosa cono così è un oggetto bello da vedere ecco ancora più bello direi questa bellissima nebulosa siamo a 2600 anni luce di distanza è la famosa nebulosa rosetta nella costellazione dell'unicorno ecco anche qui siamo in presenza di una regione che va a creare nuove stelle quindi vedete qui al centro un ammasso di stelle che è stato creato in questa nebulosità la sua luce sta allontanando i gas che hanno che le hanno originate quindi questa luce questa radiazione va a soffiar via dandoci questa caratteristica forma a rosa sbocciata anche qui una considerazione siamo a 2600 anni luce di distanza se qualcuno ci guardasse in questo momento non ci vedrebbe noi ma vedrebbe i tempi di Ciro II di Persia ancora una nebulosa molto bella siamo a 5000 anni in luce di distanza viene chiamata la nebulosa medusa ripresa da Fabio Papa è un resto di supernova un po' come la nebulosa velo che abbiamo visto prima nella costellazione del Cigno faccio una carellata rapida perché ci sono tante cose da dire anche qui a 5000 anni luce se qualcuno ci potesse osservare saremmo ai tempi ci vedrebbe ai tempi delle prime dinastie faraoniche chiudo questa rassegna di nebulose mi piaceva anche farle vedere perché sono frutto un po' del lavoro dei nostri astrofotografi con questa nebulosa che per la sua forma viene chiamata embrione infatti se ci guardate qui possiamo vedere un po' la testa di un bambino di un feto più che altro c'è la bocca c'è il naso ci sono gli occhi c'è un ricciolo probabilmente una bambina c'è un braccio c'è un corpicino rannicchiato insomma è così una curiosità ecco qui siamo a 7600 anni luce di distanza siamo un po' ai limiti di quelle che sono le distanze giuste per fare fotografie di questo genere almeno con i nostri strumenti limitati insomma facciamo ancora una sosta mi piacerebbe raccontarvi qualcosa di una ricerca che in questi tempi si sta sempre più venendo avanti è la ricerca di pianeti extrasolari quindi pianeti che orbitano attorno ad altre stelle ecco 51 Pegasi B è stato il primo pianeta a essere scoperto e confermato è avvenuto è avvenuto il 6 ottobre del 1995 venne data ufficialmente la notizia furono due astronomi svizzeri Michel Mayor e Didier Quelo che lavoravano all'osservatorio dell'Alta Provenza in Francia e con il metodo cosiddetto delle velocità radiali hanno percepito non l'hanno visto ma hanno percepito la presenza di un pianeta extrasolare e dopo molte verifiche hanno potuto confermare questa scoperta ecco il metodo delle velocità radiali giusto per capire come hanno fatto quando un grosso pianeta orbita attorno a una stella praticamente tutte e due i corpi ruotano attorno a un comune baricentro che in questo caso è dentro al corpo della stella principale ecco questo movimento induce quindi un'oscillazione nella stella che se noi la guardiamo c'è un momento in cui si avvicina a noi e un momento in cui si allontana a noi ecco se si analizza con uno spettroscopio la luce di questa stella innanzitutto vedremo le righe diciamo le righe che certi componenti ci segnalano la loro presenza quindi il marchio della presenza di alcuni componenti che sono nella stella e vedremo che quando la stella si allontana da noi vira verso il rosso quando si avvicina a noi vira verso il blu per effetto Doppler quindi questo è un ottimo metodo per scoprire pianeti extrasolari almeno quelli più più grandi quelli più grandi ed è il metodo che hanno usato questi due astronomi svizzeri ecco per avere la prima fotografia di un pianeta extrasolare è passato poco tempo credo non più di due mesi hanno puntato il telescopio spaziale Hubble verso una stella la Fomalaut nella costellazione dei pesci e oscurando opportunamente la luminosità della stella quindi oscurando il telescopio spaziale Hubble ha messo in evidenza quello che è il disco protoplanetario quindi tutta quella materia che poi va a formare nuovi pianeti e in mezzo diciamo a questo disco protoplanetario è stato individuato un pianeta extrasolare ecco anche il telescopio di Monte Palomar viene impiegato per queste ricerche qui vediamo che ha scoperto praticamente tre pianeti sono fotografie per lo più prese nella frequenza dell'infrarosso ecco al momento sono più di 500 i pianeti extrasolari che sono stati scoperti dagli astronomi e confermati e confermati però sicuramente un diciamo un mezzo che ci consentirà nel prossimo nei prossimi anni di scoprirne molti e molti altri è il lancio del telescopio spaziale Spitzer che è stato mandato in orbita nel marzo del 2009 ed è specificatamente stato messo in orbita per studiare per ricercare nuovi pianeti la sua missione sarà quella di scandaliare qualcosa come 100.000 stelle della Via Lattea per cercare pianeti soprattutto pianeti di taglia terrestre cioè pianeti rocciosi pianeti che possono avere l'acqua come componente principale soprattutto trovare quei pianeti che orbitino attorno alla loro stella nella cosiddetta fascia di abitabilità cioè a una distanza né troppo vicino né troppo lontano come sappiamo l'esperienza del nostro sistema solare ci dice che sulla Terra si può vivere non si può vivere su Mercurio e probabilmente non si può vivere su pianeti molto lontani dalla stella perché non avrebbero sufficiente energia veniamo alla domanda delle domande siamo soli nell'universo ecco finora non ci sono segnali diciamo di compagni galattici nostri diciamo fratelli o cugini ecco comunque indizi diciamo a favore della possibilità che possono esistere anche altre forme di vita lontano dalla Terra ce ne sono per esempio come abbiamo detto negli ultimi 15 anni sono stati scoperti i primi pianeti extrasolari fino a 15 anni fa si ipotizzavano ma nessuno li aveva visti quindi si poteva dire sì ce ne sono miliardi come dire forse il nostro sistema solare è unico adesso cominciamo a avere la prova che la maggior parte delle stelle possiede un sistema planetario poi per esempio lo spazio interstellare da tempo nello spazio intergalattico sono state trovate molecole organiche quindi che rappresentano poi i mattoni fondamentali della vita come noi la conosciamo altro indizio su Marte e su Europa che è un satellite di Giove è stata evidenziata la presenza di acqua e addirittura hanno già scoperto vapore acqueo in altri sistemi planetari ecco infine sulla terra possiamo dire sono stati scoperti microorganismi che vivono anche in condizioni estreme quindi di temperatura elevatissima di diciamo di di pressione elevata ci sono dei batteri che vivono in fondo nelle fosse oceaniche e quindi e addirittura si sono scoperti microorganismi che possono resistere non solo al vuoto ma anche ai bombardamenti cosmici recentemente notizie della NASA date in Pompamania che hanno trovato un batterio in un lago americano che sembra che si cibi di arsenico quando qualunque altra forma di vita terrestre non morirebbe 1895 ecco questo signore il nostro Guglielmo Marconi ha emesso il primo segnale artificiale di potenza ovviamente piuttosto bassa erano i primi esperimenti che lui faceva a Pontecchio vicino a Bologna di trasmissione senza fili ecco io non so se questo segnale abbia potuto varcare diciamo la ionosfera se non non lo ha fatto quello probabilmente lo hanno fatto immediatamente gli esperimenti successivi a maggiore potenza bene se diciamo supponiamo che il segnale di Marconi effettivamente sia uscito seppur debole viaggerebbe nel cosmo oggi avrebbe già oltrepassato tutte le stelle del grande carro vediamo in rosso la distanza in anni luce delle sette stelle che compongono il grande carro ecco quindi man mano che questi segnali elettromagnetici raggiungono distanze sempre maggiori diventa anche più probabile che se esiste qualcuno al di fuori ci possa vedere allora cosa abbiamo fatto noi finora per tentare di farci riconoscere da eventuali alieni che bottiglie siamo riusciti a lanciare in questo mare cosmico ecco in maniera molto rozza nel 1972 quando furono lanciate le sonde Pioneer 1 e Pioneer 2 e che ora viaggiano all'esterno del nostro sistema solare fu applicata questa targhetta una targhetta molto semplice molto rozza dovrebbe indicare a futuri alieni che dovessero trovare questa questa sonda la provenienza la razza umana il sistema solare la la molecola biatomica dell'ossigeno e altre informazioni insomma nel 77 sulle sonde Voyager siamo riusciti addirittura a metterci un cd una sorta di cd un qualcosa con tanto di istruzione queste dovrebbero essere le istruzioni per l'uso del cd dove sono riportate dove sono incise le voci della nostra terra quindi i voci e i suoni della nostra terra sono chiaramente dei tentativi molto rozzi di incominciare a farci conoscere all'esterno ecco un altro tentativo è avvenuto nel 1974 dal radiotelescopio di Arecibo è stato mandato un segnale verso l'ammasso globulare di Ercole M13 che dista da 25.000 anni luce da noi è stato mandato un segnale cosiddetto codificato quindi con delle informazioni dentro analoghe a quelle delle placchette che abbiamo visto prima è stato un segnale di 50.000 watt di potenza quindi cominciava ad essere un segnale piuttosto robusto e è durata la trasmissione tre minuti chissà se qualcuno la raccoglierà in futuro ecco queste poche cose le abbiamo fatte per cercare di salvare la faccia e dire ci siamo anche noi ecco ma che cosa abbiamo fatto per cercare invece la presenza di altre forme eventuali di vita vita intelligente nel nostro universo vicino ecco nel 1959 iniziava un po' la storia del cosiddetto ricerca seti quando Giuseppe Cocconi e Philip Morrison pubblicarono sulla rivista Nature americana prestigiosa pubblicarono un articolo nel quale mettevano un po' in evidenza che le radionde potevano potenzialmente essere usate per comunicazioni interstellari ecco quest'idea venne ripresa l'anno dopo da questo ex giovane signore Frank Drake che nel 1960 avviò il progetto OZMA ovvero utilizzò un radiotelescopio quello di Green Bank in West Virginia al quale era associato un computer ovviamente un computer del 1960 parliamo dei primi computer il radiotelescopio aveva il compito di cercare eventuali segnali dall'esterno il computer aveva il compito di selezionare e di individuare questo segnale in mezzo al rumore cosmico che come sappiamo c'è e che permia un po' il nostro universo e anche da eventuali rumori terrestri ecco questo signore utilizzò la frequenza di 1420 megahertz che corrisponde alla lunghezza d'onda di 21,1 centimetri perché questa frequenza perché c'è un fenomeno naturale un po' strano che avviene nel cosmo nella nostra galassia abbiamo visto che ci sono varie tante regioni ricche di idrogeno ecco l'idrogeno neutro ha la proprietà ogni 10 milioni di anni di emettere dei fotoni su questa particolare frequenza 1420 megahertz ecco visto che gli atomi nell'universo sono miliardi miliardi praticamente è una ricezione che noi possiamo continuamente sentire dai nostri dintorni galattici allora questi signori pensarono se questa frequenza tutti la possiamo vedere e riconoscere magari se qualcuno ha una voglia di mettersi in comunicazione e far sentire la propria presenza potrebbe scegliere questa questa frequenza per comunicare ecco dal 60 al 75 ci furono diversi progetti ce ne furono 15 con un predominio di progetti russi poi dal fino al 90 ci furono altri 40 progetti americani sempre volti alla ricerca di eventuali segnali ecco però siamo arrivati al 2011 e nessuno di questi progetti di ricerca ha portato a individuare dei sicuri segnali extraterrestri di origine intelligente fra virgolette c'è stato qualche falso allarme c'è stato in particolare uno di questi falsi allarme è quello il più controverso un messaggio che diciamo c'era che è arrivato nel 1977 era il 5 di agosto verso sera scusate queste cose non si fanno ecco dicevo quella sera diciamo il radiotelescopio in automatico in automatico rilevò un segnale questo segnale era un segnale diciamo che superava di 30 volte il fondo cosmico quindi era un segnale che poteva dare in qualche modo adito a pensare che potesse essere di origine artificiale ecco il mattino dopo questo ex giovane signore andò a controllare i suoi tabulati e appena vide il segnale vide subito che era un segnale un po' particolare lo appuntò col suo pennarello con la scritta wow e da allora è famoso come segnale wow furono fatti immediatamente dopo nei giorni successivi delle controprove cioè si puntò il radiotelescopio proprio nella zona dove la sera prima questo radiotelescopio aveva rilevato il segnale purtroppo il segnale non si ripresentò mai più e quindi per i canoni della scienza una cosa è provata se è ripetibile purtroppo non mai più tornò per cui probabilmente poteva essere un falso all'aone come poteva essere così un segnale di origine aliena non lo sappiamo ecco chiudendo il discorso della ricerca extraterrestre il progetto più importante per i prossimi anni è quello che si riferisce a questo nuovo radiotelescopio si chiama ATA da Allen Telescope Array ecco Paul Allen è cofondatore di Microsoft assieme a Bill Gates quindi economicamente è ben dotato ecco lui ha messo in campo questa potenza economica per consentire agli studiosi agli scienziati di mettere a punto un sistema di radiotelescopi a regime ce ne saranno addirittura 350 del diametro ciascuno di 6 metri ecco questo enorme complesso dovrà consentire quando sarà completato addirittura l'analisi contemporanea diciamo dei segnali provenienti da 100 stelle diverse su milioni di frequenze chissà che non sia la volta buona ecco riprendiamo fino alla conclusione il nostro viaggio ecco eravamo rimasti alle nebulose la nebulosa embrione a 7600 anni luce di distanza facciamo un balzo in avanti acceleriamo andiamo a 25.000 anni luce è il famoso ammasso globulare m13 bersaglio del famoso messaggio di Arecibo ecco è praticamente un gruppo di stelle molto compatto ce ne sono 158 in tutto l'alone della nostra galassia la nostra galassia la dobbiamo immaginare come un disco pieno di stelle 200 miliardi di stelle contenute in questo disco abbastanza di basso spessore e questo disco è avvolto in un grande alone lo avvolge un alone formato da rade stelle e anche da gas e da atomi vari ecco in mezzo a questo alone ci sono almeno abbiamo scoperto finora questi 158 ammassi globulari sono tutte stelle piuttosto vecchie quindi probabilmente sono le prime che si sono formate nella nostra galassia ecco anche qui la considerazione se qualcuno da là puntasse il proprio occhio verso di noi il proprio super telescopio verso di noi non ci vedrebbe come siamo ora non vedrebbe il messaggio di Arecibo ancora vedrebbe praticamente la terra com'era dopo l'estinzione dell'uomo di Neanderthal e la comparsa la successiva comparsa dell'uomo sapiens sapiens acceleriamo ulteriormente andiamo 157 mila anni luce questa immagine è stata ripresa dal nostro Sergio Bulla dall'emisfero australe è stata ripresa precisamente dal Cile questa nebbiolina che noi vediamo non è idrogeno è una piccola galassia satellite della nostra lì dentro ci sta qualcosa come 10 miliardi di stelle è praticamente una piccola galassia che assieme anche alla piccola nube di Magellano ruota attorno alla Via Lattea ecco una curiosità anche qui questa parte diciamo di colore rosso è la famosa che fa parte di questa di questa galassia è la famosa nebulosa tarantola è praticamente considerata la regione attiva di tutto cioè attiva per la formazione di stelle di tutto il nostro sistema del nostro gruppo locale cioè la nostra galassia assieme ad altre 50 galassie forma un gruppo locale di galassie ecco questa è la regione più più cospicua di formazione stellare aumentiamo la velocità anzi acceleriamo e arriviamo a 2 milioni e mezzo di anni luce siamo in presenza della in prossimità della grande galassia di andromeda ripresa sempre dal nostro osservatorio da stefano di lauro ecco questo è un po' l'immagine allo specchio della nostra galassia ecco la nostra galassia se noi potessimo guardarsi allo specchio la nostra galassia non la possiamo vedere perché ci siamo dentro vediamo la via lattea ma non possiamo intuirne la forma ecco guardando la galassia di andromeda vediamo un po' come è la nostra galassia anche se questa è una galassia un po' più grande e molto più popolosa perché il telescopio spaziale spitzer che abbiamo visto prima recentemente ha stabilito che lì dentro c'è qualcosa come mille miliardi di stelle anche qui ci sono un paio di galassiette satelliti come succede alla via lattea spingiamo a tre milioni di anni luce alla distanza siamo in presenza della galassia del triangolo è una galassia a spirale che ci si presenta di faccia diciamo e questa galassia che è un po' più piccola della nostra è un po' più piccola di andromeda ecco questa galassia assieme alla via lattea e assieme alla galassia di andromeda sono le tre galassie più cospicue del gruppo locale che ho citato prima che comprende 50 galassie ma le altre 47 sono praticamente galassie minori e per lo più satelliti ecco adesso abbandoniamo un po' i nostri strumenti anche sulle galassie anche noi arriviamo fin dove possiamo e per allontanarci ancora abbiamo bisogno del telescopio spaziale ABOL che ha ripreso a 15 milioni di anni luce quella che viene chiamata la galassia la girandola del sud è nella costellazione dell'Idra e si vede solo nell'emisfero sud ecco a 24 milioni di anni luce incontriamo la galassia girandola del nord questa volta è nell'orsa maggiore è una bella galassia che ci mostra questi bracci di spirale che come sappiamo sono ricchi di stelle spingendoci a 29 milioni di anni luce incontriamo la galassia sombrero è una galassia a disco come la nostra che però è avvolta in un grandissimo alone galattico quindi ricco di ammassi globulari qui diciamo le stelle che sono contenute in questa galassia è stata stimata in 800 miliardi di masse solari ecco quest'altra bella galassia è la galassia detta vortice siamo nella costellazione dei cani da caccia ecco ci si presenta proprio anche questa di faccia vediamo il nucleo che come sappiamo racchiude un buco nero e alcuni bracci di spirale interessante notare che in questi bracci di spirale anche qui ci sono tantissime regioni rossastre che altre non sono che le nebulose proprie di questa galassia quindi zone di formazione stellare ecco un braccio di questa galassia va a interagire praticamente con un'altra galassia vicina e le due galassie in un prossimo futuro si scontreranno addirittura ecco saliamo a 52 milioni di anni luce è una bella galassia vista di taglio quindi abbiamo visto un po' le galassie sotto vari punti di vista ecco ci si presenta siamo nella chioma di Berenice il suo nome del catalogo del new general catalog è 4565 ecco siamo ormai facciamo un balzo un po' più violento andiamo a due miliardi di anni luce adesso ci siamo già stufati delle galassie vicine a noi abbiamo voglia di correre e siamo arrivati grazie sempre al telescopio spaziale Hubble a due miliardi di anni luce vediamo un super ammasso di galassie denominato Hubble 2218 ecco questa immagine ci dà spunto per vedere una delle predizioni una predizione di Einstein che era quella dell'incurvamento della luce dei raggi diciamo elettromagnetici in presenza di grosse masse ebbene qui abbiamo questa grossa massa costituita da questa galassia e praticamente da tutte le altre galassie che compongono il super ammasso e vediamo questi cosiddetti archi gravitazionali che altro non sono che la luce di una galassia retrostante che arrivando in prossimità di questa grossa massa costituita dal super ammasso di galassie non fa altro che incurvarsi e ritornare diciamo verso la nostra linea visuale producendo praticamente questi archi la stessa cosa succede anche qui quindi è un bel esperimento di laboratorio e una conferma ulteriore di uno dei punti della teoria della relatività ecco saliamo a 11 miliardi di anni luce queste fotografie sfocate sono più che altro delle rilevazioni nell'infrarosso sono state riprese dai giapponesi del famoso osservatorio Subaru che c'è alle isole away recentemente hanno ripreso una cinquantina di queste galassie le hanno collocate diciamo a una distanza praticamente di 11 miliardi di anni luce e diciamo questo vuol dire che noi stiamo guardando delle galassie come erano 11 miliardi di anni fa non come sono oggi sono praticamente così facciamo un po' di archeo astronomia ecco questi giapponesi hanno rilevato che tutte queste galassie tranne una hanno una forma disco un po' come la nostra galassia via lattea ma siccome sappiamo che nei nostri dintorni galattici ci sono molte galassie che invece non hanno la forma disco ma hanno una forma sferoidale o ellittica qui dentro non ce ne sono tranne una quindi hanno dedotto che anche se il campione è molto piccolo parliamo solo di 50 galassie hanno dedotto che inizialmente possono essersi formati dopo il big bang delle galassie a disco e solo successivamente per urti e interazioni fra queste galassie possono essersi formate le cosiddette galassie ellittiche osferoidali ecco ancora un balzo arriviamo prossimi ai 13 miliardi di anni luce sono la distanza stimata per questa fotografia storica che è stata ripresa con il telescopio spaziale Hubble siamo ancora negli anni nel 2003 2004 alcuni astronomi decisero di puntare una zona di cielo nella costellazione della fornace che da terra appariva praticamente buia non mette in evidenza nessun oggetto ecco questa regione è stata puntata dal telescopio spaziale sono state fatte numerose ripetute fotografie a lunga esposizione per un totale di 11 giorni nel visibile e 4 giorni e mezzo nell'infrarosso proprio per mettere in evidenza quanto più si poteva ecco sommando tutte queste immagini ne è scaturita con sorpresa degli astronomi questa bellissima diciamo quadro che è denominato Hubble Ultra Deep Field ci mostra una regione galattica primigenia cioè ci mostra galassie che si sono formate poco dopo il Big Bang ecco una particolarità questa piccola zona di cielo ci fa vedere un sacco di galassie molto addensate fra di loro quindi la densità galattica è molto spinta proprio perché allora lo spazio era molto più piccolo in seguito si è espanso alle misure attuali bene ormai è ora di chiudere chiudiamo con questa immagine che rappresenta la radiazione cosmica di fondo è stata ripresa con dei satelliti in orbita puntando tutto diciamo a 360 gradi tutto il cosmo attorno a noi e praticamente si sono messi in evidenza quella che è si è messi in evidenza quella che è la radiazione fossile del Big Bang quindi dovrebbe essere questa un ulteriore conferma della teoria del Big Bang praticamente è una radiazione che è il risultato di quella che fu in origine la grande esplosione del Big Bang questa radiazione permea tutto il nostro cosmo è una radiazione che ormai ha perso energia e diciamo da una temperatura di miliardi e miliardi di gradi come poteva essere l'origine del Big Bang oggi è una radiazione che è scesa a soli 2,72 gradi Kelvin quindi siamo quasi prossimi allo zero assoluto ma non è una radiazione c'è ancora un po' di energia insomma e questo ci dovrebbe veramente testimoniare il Big Bang niente io penso di chiudere con questa immagine abbiamo fatto un lungo viaggio e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti